Tacciano le armi e si convertano i cuori e l'esortazione della presidenza della conferenza episcopale italiana intervenuta sull'attacco contro Israele. Nella nota della CEI la presidenza esprime vicinanza e solidarietà a tutti coloro che ancora una volta soffrono a causa della violenza e vivono nel terrore e nell'angoscia. Il massiccio attacco di Hamas contro Israele e la sua escalation stanno destando dolore e grande preoccupazione in tutta la comunità internazionale. La CEI chiede a gran voce il pronto rilascio degli ostaggi come auspicato da Papa Francesco durante la preghiera dell'Angelus di domenica scorsa. Gli attacchi e le armi si fermino ha detto il pontefice per favore e si comprenda che il terrorismo e la guerra non portano a nessuna soluzione ma solo alla morte e alla sofferenza di tanti innocenti. La guerra è una sconfitta, ogni guerra è una sconfitta. Poi l'appello alla intera comunità internazionale affinché compia ogni sforzo per placare gli animi e avviare finalmente un percorso di stabilità per l'intera regione nel rispetto dei diritti umani fondamentali. Quella terra che riconosciamo come santa, si legge nella nota CEI, merita una pace giusta e duratura per essere punto di riferimento di fede, speranza e amore. Per la conferenza episcopale italiana troppo sangue è stato già versato e troppo spesso di innocenti. Ed infine in questo mese dedicato alla preghiera del rosario, la CEI invita tutte le nostre comunità a pregare per la pace.